L'accordo di Maastricht fu il tentativo di forzare l'unificazione politica che mancava per la realizzazione degli ideali di pace e di benessere che avevano ispirato la fase iniziale, quella industrialista di politica industriale che portò del bene a tutti, compresa l'Italia. Tuttavia, fin da allora, per compiere o dare la speranza che sarebbe stato compiuto il passo dell'unificazione politica, i Paesi incominciarono, e in particolare la Germania, a chiedere che si rispettassero alcuni parametri, appunto i parametri di Maastricht. Questo invece di creare le condizioni per poter perseguire verso la unificazione e anche politica europea, ha creato un qualche problema perché è stato inserito un pilota meccanico in un'economia mondiale che invece diventava sempre più flessibile e richiedeva flessibilità in tutti gli aspetti, nei bilanci pubblici, nelle politiche monetarie, come dimostrano le recenti esperienze degli Stati Uniti e del Giappone, ma anche di altri paesi. A questo punto è venuto il capi al collo, però il termine non è mio, il termine è del mio maestro Guido Carli, il quale, fin dalle trattative a livello internazionale e ancora prima di quelle europee, sosteneva la tesi che il capi al collo era necessario per indurre il Paese ad affrontare i suoi difetti di fondo, la sua tendenza all'assistenzialismo, la sua tendenza alla partecipazione sempre più estesa del capitale pubblico nel capitale privato, però aggiungeva sempre l'importante che la mano stia sul nodo per controllare lo scivolamento, impedire che l'economia del Paese si strozzasse. Quindi la situazione attuale è esattamente la situazione in cui noi questa benedetta mano non l'abbiamo più sul nodo, perché i trattati successivi hanno sempre più rafforzato i parametri, direi, rigidi, l'ultimo dei quali è appunto quello che si definisce il fiscal compact, cioè l'impegno che dovrebbe andare nella Costituzione del pareggio di bilancio. In un Paese che ha già una situazione di debito pubblico che assorbe circa il 6-7% delle risorse annue del Paese, c'è un problema del rimborso, rimborso che ovviamente non può avvenire se non attraverso un avanzo di bilancio, l'avanzo di bilancio significa deflazione, quindi ci troviamo in un circolo vizioso. Come uscire da questo circolo vizioso? A mio avviso, per la competizione internazionale, noi dobbiamo avere le stesse istituzioni e le stesse politiche del resto del mondo. Le istituzioni, in particolare la Banca Centrale Europea, è stata creata, vincolata, al compito di finanziare solo le banche e quindi l'economia privata, con la proibizione, chiamiamola assoluta, di finanziamento dei governi e quindi dei deficit pubblici e direi il mancato potere assegnatogli di intervenire sul cambio. Questo significa che sul cambio in particolare tutto ciò che nel resto del mondo, che è un problema molto grave, determina squilibri dei cambi, eccesso di creazione monetaria da parte degli Stati Uniti, dollaro debole, euro forte, esportazioni europee svantaggiate. Quindi il mio suggerimento è che la Banca Centrale Europea debba essere dotata del potere di intervenire, autonomamente, ma che abbia questa possibilità di intervenire. Poi il discorso sul bilancio pubblico, anche qui Stati Uniti e Giappone hanno disavanzi pubblici che sono da due a tre volte più grandi dell'Europa e quindi noi andiamo alla competizione internazionale con paesi potentissimi come Stati Uniti e Giappone che hanno invece la possibilità di finanziare in disavanzo maggiore spesa creando moneta e quindi creando problemi all'Europa. Draghi ha trovato una soluzione che, come è noto, ancora è oggetto di discussione, tant'è che la Germania è ricorsa alla sua Corte Costituzionale per dichiarare che è questo. E questo per quanto riguarda la Banca Centrale Europea. Per quanto riguarda la politica fiscale, io accetterei il pareggio di bilancio, però il famoso 3% di Maastricht lo farei gestire dal Parlamento nuovo su proposta della Commissione che il Parlamento designerà e approverà per la prima volta nella storia europea in modo tale che ci sia una flessibilità anche dal lato della politica fiscale. Questo è il minimo. Quindi il mio europeismo è sempre più forte e ritengo che però se non si riformano le istituzioni europee e le politiche che pratica la Commissione e il Parlamento probabilmente l'Italia si troverà ad avere il cappi al collo sempre più stretto entrando in serie difficoltà.